Potenziamento del porta a porta per le attività balneari del litorale, intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via litoranea e sulle aree più frequentate del lungomare, consolidamento della raccolta differenziata presso le 110 utenze commerciali del porto turistico, sono i punti salienti del Piano Mare 2018, predisposto da AMA di intesa con le amministrazioni di Roma Capitale e del decimo municipio, presentato presso la Sala Conferenze del Porto. Entra nel vivo quindi il piano speciale per le attività balneari del litorale romano. È stato già attivato il porta a porta con la distribuzione di oltre 560 contenitori. La raccolta viene effettuata ogni giorno, inoltre verrà intensificato quotidianamente lo spazzamento e la pulizia meccanizzata di strade e marciapiedi dei lungomare e delle aree pedonali, come anche lo svuotamento a ciclo continuo dei 150 cestini posizionati nei punti maggiormente frequentati, incluso il pontile. Interventi mirati di pulizia sono poi in programma sulla litorania, tra via del Lido di Castelporziano fino al confine con il comune di Torvaianica, potenziata anche la differenziata nel porto turistico.